Ciao, io sono Lorenzo Le Donato, andiamo dal Sud Italia, è un po' di tempo fa, smanettando lì su Facebook ho visto un video di Motoretto dove avevano bisogno di acquistare un macchinario, un motorino elettrico per un ragazzo. Abbiamo organizzato una serata di beneficenza e ringrazio il sindaco che non ha appena visto di cosa si trattava ha buttato giù 1000 euro, ha donato 1000 euro per l'accesso di questa sedia e voglio dire solo una cosa, noi siamo dei semplici ragazzi, non lavoriamo, non facciamo chissà che cosa, basta poco, non ci vuole tanto, tanto così si può aiutare chiunque, basta solo smuovere un po' le altre, basta solo organizzarsi, non è che bisogna essere chissà che cosa per fare del bene, basta poco, basta così, buona volontà, pazienza e serietà, monta. Basta poco, loro sono stati bravissimi, grazie a loro e al loro sforzo siamo riusciti a fare il regalo a Emanuele, non solo, abbiamo anche, lo possiamo dire, raccolto un pochino di soldi di più, quindi riusciremo ad aiutare anche altri ragazzi, grazie, 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 come hanno detto loro, basta poco, bravissimi, che sono partiti da Francavilla per venire qui a Varazze a raccontarcelo di persona, bravissimi, bravissimi.